Pisa, città della scienza. Galileo, Fibonacci, Pacinotti, Ulisse e Dini sono nati qui. Ricerca, produzione e avanguardia nelle applicazioni. Tutto ciò ha reso Pisa città delle tecnologie e oggi si presenta al mondo come capitale della robotica. Vieni a scoprire la mia bellissima città. Dal 27 settembre al 3 ottobre ospiterai il Festival Internazionale della Robotica. L'eccellenza è qui. Vieni a scoprire il futuro. Vieni a scoprire il futuro. Vieni a scoprire il futuro.